Il modulo Documenti ti consente di creare e gestire preventivi in modo rapido e intuitivo. Clicca su Crea preventivo dal menu in alto a sinistra. La compilazione del documento è del tutto simile a quella di una fattura elettronica, sia a livello di interfaccia che di dati da inserire. Su Tipo cliente, scegli se inviare il preventivo alla PA o a un privato. La data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione del preventivo. Se vuoi cambiarla, clicca sul Calendario e imposta la nuova data. Può essere antecedente o successiva. La data scadenza è calcolata in automatico dal sistema come 30 giorni dalla data di creazione del documento. Potrai cambiare il valore predefinito del campo, come vedremo più avanti nel video, dal menu Impostazioni del pannello. Il sezionale è fisso e non è modificabile. Su Progressivo, il sistema imposta la numerazione progressiva automatica prevista dal sezionale. Da Dati cliente, puoi ricercare uno specifico cliente salvato in anagrafica, digitando il nome nell'apposito campo oppure cliccando su Ricerca cliente e poi selezionando quello corretto in elenco. I clienti sono filtrati in base al tipo cliente, privato o PA. Per creare un preventivo destinato ad un cliente non ancora presente in anagrafica, clicca su Aggiungi nuovo cliente e compila i campi visualizzati. In questo caso, sarà obbligatorio salvare il cliente in anagrafica. Nella sezione al centro della schermata, inserisci Prodotti o servizi al preventivo. Puoi aggiungerli iniziando a compilare il campo Codice o il campo Descrizione. Compareranno i prodotti presenti in anagrafica corrispondenti a quanto inserito e potrai facilmente selezionare quello corretto. In alternativa, clicca su Aggiungi prodotto o servizio per selezionare il prodotto dall'elenco. Puoi anche inserire prodotti non presenti in anagrafica cliccando su Aggiungi nuovo o compilando il campo Descrizione con un valore non presente nella tendina. Puoi modificare tutte le voci visualizzate. Se inserisci uno sconto o maggiorazione, sarà applicato al solo prodotto presente nella riga interessata. Dal menu a rotella, puoi modificare il prodotto o servizio, duplicare o eliminare la riga ed inserire dati aggiuntivi ai prodotti. I campi Esigibilità IVA, Cassa previdenziale e Ritenute sono precompilati con i dati che hai indicato nella prima configurazione del pannello. Puoi modificare i dati predefiniti da utilizzare dal menu Impostazioni, Profilo di fatturazione. In Creazione del preventivo, puoi cliccare su una delle voci per modificare i dati relativamente al singolo documento che stai creando. Inoltre, su Cassa previdenziale e Ritenuta, puoi indicare la base imponibile, cioè se vuoi applicare il contributo previdenziale e o la ritenuta su tutte le righe del preventivo o solo su alcune. Puoi inserire allegati al preventivo, abilitando l'omonima sezione, o applicare un arrotondamento o uno sconto o una maggiorazione. Inserisci, se necessario, anche la causale del documento. Compila i dati pagamento tra quelli disponibili su Metodo di pagamento. Il pannello contiene un elenco di quelli più usati e già censiti a sistema. Per inserirne di nuovi, clicca su Aggiungi nuovo. Le condizioni di pagamento vengono inserite in automatico, in base al metodo di pagamento selezionato. La ripartizione delle rate viene calcolata in base a quanto inserito nel preventivo. È possibile personalizzare gli importi, il metodo di pagamento e la data per ogni singola rata. Clicca su Prosegui e compila i dati aggiuntivi richiesti, ad esempio Banca, se ne è necessario l'inserimento. Durante la compilazione, puoi vedere tutti i calcoli aggiornati automaticamente dal sistema. Per disabilitare il calcolo automatico, rimuovi il flag in corrispondenza della voce in alto. A questo punto, puoi salvare il preventivo sull'omonimo menu cliccando su Salva. Il documento sarà salvato in stato completo se sono stati inseriti tutti i campi obbligatori o incompleto se mancano uno o più dati obbligatori, ad esempio Cliente o Metodo di pagamento. Per inviare il preventivo per email al cliente, clicca su Salva e invia. Se hai attivato su Impostazioni il server SMTP per inviare le mail dal tuo indirizzo di posta, vedrai il template personalizzato che hai scelto come predefinito. Il mittente delle mail è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. Puoi comunque sempre personalizzare l'oggetto e il testo delle mail. Se hai salvato un indirizzo email per il cliente in anagrafica, lo vedrai già inserito su Destinatari. Puoi inserire anche altri due destinatari delle mail. Se non hai configurato il server SMTP posta in uscita per invio email, l'email avrà come mittente no-reply chiocciolafatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Anche in questo caso, potrai indicare fino a tre destinatari cui recapitare il preventivo. Se vuoi cambiare la durata predefinita di validità del preventivo, vai su Impostazioni e modifica in Documenti il numero di giorni presente di default. Inoltre, sarai sempre aggiornato della scadenza dei preventivi che hai creato, grazie al calendario predefinito Preventivi visibile su Agenda. Su Impostazioni, potrai attivare la ricezione di avvisi per gli eventi salvati su questo calendario. Fino a tre avvisi per gli eventi associati. Dopo la scelta, controlla di aver inserito la spunta su Preventivi in agenda. In questo modo visualizzerai tutti i preventivi in scadenza. Potrai modificare la ricezione di notifiche via email relative ad uno specifico evento. Puoi scegliere di ricevere fino a tre avvisi, selezionando le opzioni dai menu a tendina.